5 luglio 2022, Messaggio di Nostra Signora Regina della Pace Cari figli, ascoltate la voce del Signore e siate fedeli. Lasciatevi condurre dalle mani del Signore. Egli vi porterà sul cammino sicuro. Siate docili. La vostra ricompensa verrà dal Signore. Dite a tutti che Dio affretta e che questo è il tempo della grazia. L'umanità vive in una triste cecità spirituale perché la creatura è più valorizzata del creatore. Arrependevi, perché il pentimento è il primo passo verso una vita di santità. Io sono la vostra Madre addonorata e soffro per quello che viene per voi. Sarete perseguitati perché amate e difendete la verità. Non tiratevi indietro. Prima, e sopra di tutto, obbedite a Dio. Avanti. Io pregherò il mio Gesù per voi. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.